Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi 11 luglio del ventennio fascista. Il tema fondamentale oggi su tutti quanti i giornali è la spiaggia di Chioccia in cui il gestore mostra delle frasi del ventennio fascista. Apriti cielo, parte della Repubblica e poi tutti gli altri giornali ne discutono, fiano, 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 fange per l'apologia del fascismo, non si parla d'altro. Una cosa ridicola ovviamente è quella che sta avvenendo, forse quello che lo scrive meglio oggi e da un punto di vista tecnico, poi ci sono molti commenti che vi segnalerò, quello che lo dice meglio è Cesare Pirabedi, mi sembra ex presidente della Corte Costituzionale, che dice la democrazia sul messaggero di oggi. La democrazia si nutre di convinzioni, non di sanzioni. Questa frase segnata verrà bene in testa, la democrazia si nutre di convinzioni, io direi di idem sentire più che di sanzioni, mentre il nostro è il paese delle sanzioni. Tra l'altro bisogna ricordare, lo ricordano tutti quanti i giornali, che sulla questione di questa spiaggia gestita da un imprenditore che pensa che il ventennio non sia stato un disastro e fa gadget, frasi del ventennio. Bene, ci sono già delle leggi se questo dovesse superare il libero pensiero, ma la ricostituzione del partito fascista, che è il vero problema che il legislatore si è posto, come dice Mirabelli. C'è una legge Scelba, c'è la legge Mancino, tra l'altro il prefetto ovviamente non ha fatto altro, non ha pensato altro che aveva di meglio da fare che ordinare di rimuovere tutti i riferimenti al fascismo, di tipo Mussoliniano, l'onestà parte dall'alto, tutte queste robe qua, questi riferimenti anche, voglio dire, sacrosanti, ma che hanno un'origine Mussoliniano, devono essere ovviamente ritirati e poi è stato anche denunciato per apologia del fascismo. Insomma, devo dire che la storia, se non fosse seria, sarebbe semplicemente ridicola. Il disegno di legge Fiano, tra l'altro, vieta e manderebbe in carcere fino a due anni chi fa un gadget fascista, cioè il vino che si chiama faccetta nera, se tu lo fai vai in carcere. Boh, non lo so, il reato di propaganda, dice giustamente oggi il foglio, è un reato assurdo, ma il foglio che cosa fa oggi? Se la prende con il Movimento 5 Stelle che attacca questa legge definendo la liberticida, quindi fa benissimo il Movimento 5 Stelle dal mio punto di vista, però il foglio ha questa idea panse, siccome non ha il Movimento 5 Stelle, di dire lo fa per propaganda, perché vuole accaparrarsi e stizzare l'occhio alla destra. Io dico che c'è di male, tutti fanno le cose quando fanno politica per propaganda, anche chi fa la flat tax fa per propaganda quelli che pagano troppe tasse, e qui faranno propaganda quelli che pensano che il ventennio fascista lo guardano con un po' di, come possiamo dire, nostalgia, a parte che non so quanti ce ne siano ancora che vedono nostalgia nel ventennio fascista. Ma comunque sia, è ovvio che tutti quanti i politici lo fanno per propaganda, molto divertente oggi, parente sul giornale che parla della piccola piazzale Loreto a Chioggia, e il titolo di Libero, il pezzo affidato a Facci, il cui titolo, Tranchand di titolo, è peggio dei fascisti, solo gli antifascisti, si poteva dire anche per altri casi. L'autorchia, rimaniamo con questo filo nero, diciamo non rosso, del fascismo oggi, autorchia fiscale italiana, è quella che propone Renzi, l'abbiamo letto nei giorni scorsi, lo dice anche oggi i giornali, il 2,9% il deficit, piuttosto che il 2,4% che oggi abbiamo, e comunque fino a scendere all'1,5% come previsto dai trattati europei del fiscal compact, dice se facciamo un deficit un po' più alto, sotto il 3% previsto da Maastricht, abbiamo molte più risorse per ridurre le tasse. Questa è la tesi di Renzi, che dice anche, però, riduciamo il debito, quindi se aumenti il deficit e riduci il debito, vuol dire che qualcosa devi inventare, cosa che Guido Tabellini oggi in maniera molto lucida, secondo me, sul sole 24 ore, il professor Tabellini dice, ma è un po' difficile riuscire in Italia a ridurre il debito, che è il vero nostro problema, non tanto il deficit, ma il debito è il problema, aumentando il deficit. La Meli, che è la donna che sente con maggiore forza la giornalista il pensiero renziano, tant'è che lo virgoletta, dice, ma io non ho fatto una proposta che vale ovviamente per questa legislatura, per questo volevo le elezioni anticipate, è una proposta da fare per la prossima legislatura, quindi deve avere una dimensione di 5 anni l'aumento del deficit, e comunque dice l'autarchia fascista di Renzi, lo facciamo anche da soli contro tutta l'Europa. Insomma, non è una cosa così semplice aumentarsi il deficit, come ben sapete, con tutta l'Europa, che invece oggi sui giornali dice che non possiamo farlo. Tra l'altro il fiscal compact, cioè quel pacchetto di norme europee che fanno sì che noi non si possa avere un deficit del 3%, del 2,9%, come le vecchie regole di Maastricht, ma proprio per il nostro debito si debba avere un deficit molto più basso, questo fiscal compact non è che l'abbiamo approvato 100 anni fa, ma l'ha approvato il Parlamento italiano il 2 marzo del 2012, ed è stato votato non da tutti i 28 paesi europei, ma da 25, la Gran Bretagna, ad esempio il fiscal compact non l'ha votato, noi sì. Insomma, non è facile andarci in controparte, riguarda cose d'economia, oggi Alessina e Giovazzi, ve lo consiglio, parla della legge sulle liberalizzazioni, dice una cosa molto sana sulla legge delle liberalizzazioni, potete più o meno esserne d'accordo, ma dice i benefici delle leggi sulle liberalizzazioni sono generalizzati, ma piccole giungo io per ognuno di voi, mentre i costi sono concentrati, cioè le lobby che perdono sono poche e quindi hanno un potere di influenza sulla politica enorme. Solo la Thatcher e Schroeder sono riusciti a fare liberalizzazioni in Europa, e in parte dicono Alessina e Giovazzi, Renzi, sulle popolari e sul lavoro. Condannato anche Bossi per due anni e tre mesi, per i soldi, pensate un po' voi, per tutti i soldi suoi personali e soprattutto per la laurea nell'impero albanese, perché faceva parte dell'impero albanese, del figlio Trota. Anche qui c'è un pizzico di fascismo nella condanna di Bossi, che lui stesso dice che è una condanna derivante della politica. La storia più straordinaria di oggi è la storia della nuova segretaria della FIOM. La FIOM è il grande sindacato metalmeccanico, esiste da più di cento anni, lo ricorderete perché il suo uomo era Landini. Sapete chi è diventata segretaria della FIOM? Una signora bravissima, la conosco, si chiama Francesca Redavid, lei è ospite qualche volta in Rai, ma la signora Redavid si è laureata in storia alla Sapienza a Roma, non ha mai messo un piede in una fabbrica. L'idea che i metalmeccanici siano guidati da una signora che è una degnissima signora, laureata in storia con una grandissima storia sindacale, perché ha sempre lavorato nel sindacato FIOM, dà un po' il senso di come il sindacato non sia più quello fascista, in cui si lavorava nelle fabbriche e si era tutti corporativi. e basta laurearsi storia e si diventa presidenti segretari della FIOM. Atteggiamento un po' fascista, se mi si permette, tra virgolette non voglio essere querelato, quello di Gino Strada, la sua figlia era diventata presidente di Emergency, ieri viene fatta fuori dalla presenza di Emergency, viene scelta un'altra persona al posto suo come presidente, cosa dice Gino Strada? Chi parla di dissidi, lo fa oggi il giornale, ma lo fanno tutti i giornali, chi parla di dissidi all'interno di Emergency verrà querelato. Insomma, nessuna libertà di parola per i giornali, che qualche dubbio se lo pongono. Come vai Gino Strada aveva la figlia presidente fino a Mo e adesso improvvisamente non è più presidente? Sono del tutto false quelle idee che vedevano contrasti tra padre e figlia sui finanziamenti di Emergency? Possiamo farci queste domande? Possiamo speculare su questo, caro Gino Strada? O andiamo tutti querelati per il semplice motivo di fare il nostro mestiere? Beh, evidentemente non si può fare. I francesi, i tremendi francesi, non sono nostri alleati in questa guerra contro il fascismo, tant'è che si sono conquistati Telecom e vogliono far fuori Cattaneo, che è l'amministratore delegato di origine italiana ovviamente da Telecom. Ieri i titoli hanno perso moltissimo in borsa, oggi si fanno su e giù, ma la cosa stupenda è che i giornali parlano di questa cosa un po' come se fosse Emergency, senza nessun rischio di querela in questo caso. Ultima questione che vi ricordo, l'ho letta, mi sembra, su Repubblica, è il flop dell'imperiale Nerone. Cioè, vi rendete conto, a Roma avevano fatto questa piattaforma fantastica, cioè fantastica per la location, tra il Palatino e il Colosseo, non so quante migliaia di metri quadri, dovevano fare un grandissimo musical che si chiama Nerone, che piaceva molto al regime fascista. Questo Nerone però, anzi più Augusto piaceva che Nerone al regime fascista, però quell'era una zona in cui insieme a Chioccia probabilmente piaceva il mito dell'impero. Allora, questo Nerone però, da chi è stato finanziato? È stato finanziato per circa un milione di euro dalla regione Lazio. Dalla regione Lazio e dalla cazzo di Camera di Commercio della regione Lazio. Cioè, i soldi dei piccoli imprenditori, dei professionisti che vanno alla Camera di Commercio vengono utilizzati per finanziare Nerone. E Nerone è finanziato dalla regione Lazio, che ha il Lira più alta di tutta Italia per il semplice motivo che non c'è una lira in cassa. Cosa fanno questi qua? Finanziano il Festival Nerone, che è come tutte le cose che spesso non hanno necessità di pubblico. Oggi se finanzia anche la mostra del quadro di Sottocamino, riesci ad avere qualche gente che te lo va a vedere. Ma è stata fatta talmente di merda questo festival, questo musical Nerone, che è diventato un flop assoluto. Biglietti che devono costare 250 euro, eccetera. La regione, il comune, gli ha subito dato una zeppa alla regione, ha detto che è troppo alto il volume, quindi gli era fatto abbassare. Insomma, a me interessa poco quello che è successo e il motivo per il quale sia stato un flop. Quello che mi interessa è che, come dice Vincenzo, un flopone della regione. Tra gli altri autori, registi e tutti quanti non sono stati pagati. Quindi hanno pure lavorato gratis per la regione e per questo festival, e per questo musical Nerone. Allora, io invece di fare Giavazzi, Alesina, Tabellini, Renzi, quello che dite voi, invece di prendere in giro sempre quando si dice che con la cultura non si mangia, che era quella infelice frase di Tremonti, cercare di capire un po' il senso. Il senso è che ci siamo rotti le balle che con i soldi pubblici si finanziano manifestazioni culturali dei miei stivali. Se voi aveste dato a un privato quella location davanti al Colosseo e sul Palatino e gli avesse permesso al privato di fare qualsiasi cosa là, anche il festival di Chioccia, avrebbero fatto i miliardi. Ma siccome questa cosa qua è stata fatta dagli amichetti della parrucchietta, della regione, della Camera di Commercio, di quattro funzionari sfigati che si saranno presi stecche dagli ultimi trent'anni per qualsiasi cosa, è un flop che tanto nessuno si ricorderà. Che volete che sia un milione nei miliardi che perdiamo? Ecco, queste cose mi fanno venire il sangue al cervello. Responsabili zero. Mai nessuno. Ciao, vi do appuntamento domani.